Benvenuti in Grand Seiko. Grand Seiko è un marchio giapponese di orologi di lusso che rappresenta l'eccellenza artigianale e tecnologica del Giappone nel mondo dell'orologeria di alta gamma. Fondata nel 1960 dalla Seiko Watch Corporation, Grand Seiko è noto per la produzione di orologi di alta qualità, caratterizzati da un design elegante e sofisticato, unito a una grande attenzione ai dettagli. La qualità dei materiali utilizzati e la maestria artigianale dei suoi orologiai hanno permesso a Grand Seiko di diventare famoso per la sua precisione e affidabilità. La produzione degli orologi Grand Seiko è interamente effettuata in Giappone, dove ogni orologio viene assemblato manualmente da artigiani altamente qualificati. La collezione Grand Seiko presenta una vasta gamma di orologi di lusso, tra cui il celebre Snowflake, un orologio automatico caratterizzato da un quadrante bianco a effetto neve e una cassa in acciaio inossidabile. Grand Seiko produce anche orologi con complicazioni sofisticate, come il turbione e il calendario perpetuo, oltre a modelli di orologi sportivi e cronografi. La collezione Spring Drive è invece dedicata agli amanti della tecnologia, grazie all'innovativo movimento Spring Drive, che utilizza una combinazione di meccanica tradizionale e tecnologia al quarzo per garantire una precisione senza precedenti. La qualità e la precisione degli orologi Grand Seiko sono il risultato di una produzione artigianale e di una grande attenzione ai dettagli, uniti alla tecnologia più avanzata. La produzione degli orologi Grand Seiko è interamente effettuata in Giappone, dove ogni orologio viene assemblato manualmente da artigiani altamente qualificati. La qualità dei materiali utilizzati, unita alla maestria artigianale degli orologi, rende gli orologi Grand Seiko dei veri gioielli dell'orologeria di lusso. Per chi cerca un orologio di lusso di altissima qualità, Grand Seiko è sicuramente un marchio da tenere in considerazione. Grazie alla sua vasta gamma di modelli, Grand Seiko è in grado di soddisfare le esigenze di ogni cliente, offrendo orologi di lusso caratterizzati da un design elegante e sofisticato, unito a una grande attenzione ai dettagli.